C'è un cammelliere che sta per morire, decide di fare il testamento a tre figli e scrive nel testamento che al primo gli lascia un mezzo dei suoi amici, al secondo gli lascia un quarto e al terzo gli lascia un sesto, avrà avuto le sue ragioni per fare questo. E muore, i figli aprono il testamento, leggono questo riparto e vedono che l'asse ereditario consisteva in 11 cammelli, tutto quello che il padre era riuscito ad accumulare sull'arco della vita, 11 cammelli, e iniziano a litigare, perché 11 non è divisibile per due, farebbe 5 e mezzo, allora in primo dice datemene 6 e gli altri lo contestano, come 6, hai avuto la fortuna di avere più di noi, accontentati di 5, niente da fare, come succede nelle migliori famiglie litigi. Dalle parole alle mani, dalle mani al pugnale e questi si sarebbero scannati se, per puro caso, di lì non fosse passato un cammelliere che andava, non conosceva i tre, andava in una certa direzione. Si fa raccontare l'accaduto avendo visto il trambusto e a quel punto il cammelliere fa il gesto e cioè dona, dona senza essere quindi obbligato il suo cammello. Allora l'assere di taglio diventa 11 più 1, 12. Allora 12 diviso 2 fa 6, 12 diviso 4 fa 3, 12 diviso 6 fa 2, totale 11. A quel punto il cammelliere riprende il suo cammello e procede. Allora qual è il messaggio, anzi due messaggi della storia? Primo, che chi pratica il dono non si impoverisce mai, il cammelliere ha fatto il dono gratuito e non ci ha perso, anzi ha guadagnato, perché? Perché ha ottenuto la riconoscenza dei tre fratelli, i quali avendo visto che in quel gesto si sono risparmiati la vita, gli avranno manifestato la loro riconoscenza. Il secondo messaggio è ancora più interessante, ed è che le regole della giustizia, questa è la giustizia perché il testamento ha il valore di legge, quello scritto nel testamento, le regole della giustizia da sole non bastano garantire la pace, i tre fratelli si sarebbero scannati. Nella storia umana quante guerre sono state combattute in nome della giustizia? Tantissime, tantissime. Quindi attenzione quando parlate della giustizia ci vuole ma non basta, ma quando la giustizia si sposa con il dono, col principio del dono il risultato è ottenuto. Vedete, nella situazione finale le regole della giustizia sono state garantite, perché ognuno ha avuto quello che aveva scritto, però si è evitato il conflitto tra fratelli. Ecco allora il punto in questione, noi abbiamo bisogno di declinare il concetto di giustizia benevolente. Non basta la giustizia, ma dobbiamo puntare alla giustizia benevolente, cioè la giustizia che vuole il bene. Perché se la giustizia non è finalizzata al bene, cosa diventa? Giustizialismo. Sapete cos'è il giustizialismo? Pericoloso, tagliare la testa come i Giacobini fecero dopo la rivoluzione francese. E quindi ecco perché oggi la vera sfida sul piano questa volta culturale, filosofico e anche politico è che non basta dire giusto, giusto. Perché voi potete avere una società giusta dove la gente si ammazza, oppure dove la gente viene ammazzata, come sappiamo dalla storia. I casi sono tantissimi. Noi dobbiamo mirare alla giustizia benevolente, cioè la giustizia che procede di pari passo con il principio del bene. Perché quando la giustizia e il dono che sta per carità marciano assieme, allora sia il benessere sia la pace. Grazie e buonanotte tanti cari amici.